Io per parte mia voglio dirvi tutta la mia stima, il mio apprezzamento, il mio ringraziamento per questo lavoro che avete iniziato e per il contributo, le proposte che sono sicuro saprete portare all'Expo in vista dell'Expo del 2015 su iniziative, manifestazioni che possono essere fatte in campo sportivo. E' un piacere conferire l'Excellence Grandeur al maestro Giuseppe Trumatico. Una delle personalità di maggiore elevanza del cinema, insegnato dei più prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale, con una carriera che ha positivamente contribuito al progresso dell'arte del film e che ha saputo regalare emozioni agli spettatori attraverso immagini in una crisi straordinaria sensibilità. Il significativo senso civico attraverso il quale sa esprimere il suo impegno sociale caratterizza l'artista dotato di una spiccata creatività coniugata ad una profonda capacità di analisi. Il Presidente della Regione Lombardia, l'On. Roberto Formigoni, consegna ufficialmente con il Presidente della FIX, il Professor Franco Ascani, l'Excellence Grandeur al Maestro Giuseppe Trumatico. Ringrazio il Presidente della Regione Lombardia, il Professor Formigoni, ringrazio il Presidente Ascani, la Federazione Internazionale Cinema, Televisione e Sport per questo riconoscimento così importante. Nel Danione d'onore fixe per Daniele Girardoni. Favorire gli incontri, la collaborazione tra tutti coloro che svolgono un lavoro creativo nel campo dello sport, attraverso meeting, festival, conferenze, dibattiti, congressi, manifestazioni sulla comunicazione e l'educazione sportiva e stimolare anche sì lo studio, la discussione e la conoscenza dei problemi culturali e creativi propri di questo anno. Noi non abbiamo le forze, le intelligenze e le capacità per fare tutto da solo, noi abbiamo la sciocca amministrazione di fare. Abbiamo invece la certezza che, riuscendo a essere l'accelenatore in qualche modo e l'integratore di un altro, riusciremo tutti insieme ad avere una squadra e dimostrare che le squadre vincono gli sport di squadra e le singole eccellenze per vincere gli sport individuali. I filmati che la frizzo e il corsiere possono dare adito a tutta una serie di dibattiti. Io credo che su più di questi tabli potremmo portare l'attenzione proprio dei progetti che stavamo esaminando. Grazie a tutti.